Cosa vuoi Jeffy? Ho detto papà. Perché l'hai detto papà? Ma perché l'hai detto? Chi gioca a videogiochi in bagno? Guarda cosa sta facendo Antonio papà. Sto studiando con questa tablet e con applicazioni di matematica. Tu giochi a videogiochi in bagno? Non è un videogiochi, è soltanto un tablet e io non ti credo per niente. E' un tablet, è come un tablet piccolino solo che puoi fare video-lessione. Non te, stai già prestato le lezioni, a fare presto a qualcuno che vuoi. Allora cosa stai studiando? Dimmelo. Sto studiando matematica. Papà ti sta prendendo per il culo, non è un tablet. E' sempre l'Italian Switch, giocando adesso capitolo 2. Che cosa? Tu basta perché l'hai detto mio padre. Dammi l'Italian Switch. Antonio. Oh no, Deltaloon. Chris, Dream, ti faccio io giocare con Deltaloon, Deltaloon, come si chiama. Papà mi stai sporcando, ma non so sta. Stupida pezzo di merda. Papà mio bambino, Jeffrey, non toccare la mia Nintendo. Ah ah, Antonio è tutto sporco di... Eh, non mi te la senti sono sporco di... Ehi, Dani, scontati. Papà, ma che cazzo fai? Papà! 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 Ti prego, basta! Maledetti spaghini! La grande papà! Papà, smettila! Papà, la smetti? Saluto, Peridot! Saluto, Peridot! Ma vaffanculo i tuoi fan nazionale, che tu già qui sei un tanto stronzo fastidioso! Papà, smettila! È rotto, cazzo, non lo vedi? Ah, sei da risparto? La prossima gioca, che giochi ancora? Deltaloon o qualcosa di genere? Ti faccio, ti faccio... Io faccio ancora il peggio, scecco! Grande papà! Grandioso! Credo che più bisognava ancora. Sì, sì, certo come no! Dopo aver spaccato la mia Nintendo! Però proviamo, dai! Non funziona, niente! Non funziona! Ehi, Antonio! Non sai cosa ci fa una Nintendo Switch sull'attività di manziale? Ecco, ancora il motore in carica! Saluto, Peridot! Sei un cretino! Ha ha!